Salve a tutti! Ok, oggi vi farò scoprire, se non lo sapete già, come si apre il... si chiama, l'ho visto così, LCD Test Cioè, servirebbe per... non è da installare nessuna applicazione, ci tengo a dire Servirebbe a... che ne so, vi si blocca la fotocamera Voi la aprite da LCD Test e la avete fatto funzionare Capito? Quindi, diciamo, la risettate senza cancellare nessun dato È utile se vi si blocca qualcosa all'interno del telefono Allora, iniziamo Andate su telefono, no? Che ne so, dovete fare un numero, però è un codice che vi farà entrare in questa impostazione del telefono Allora, asterisco una volta Cancelletto una volta Zero Asterisco, cancelletto Vi compariranno tutti questi Che ne so, led, se non vi si funziona più, faccio rosso, verde e blu Poi sono finiti, vabbè Poi, vibrazione, se non funziona più Questo... che ne so, lo suono Questi sono i colori del... del... come si chiama? Del led Schermo rosso Schermo verde Schermo blu Sempre dei led I colori del led Qui Sensor sarebbero tutti i sensori che ci sono dentro il telefono, no? Accelerometro Quando è in piano, forse... Fibra diventa verde Ma non riesco mai a farlo Oh Vabbè Ehm... Accelerometro In cento Vabbè Bisogna sempre cliccare due volte sul tasto indietro Perché sennò Non si esce Touch Mi diverto sempre a fare questa roba Dovete far diventare verdi tutti i quadratini Ci passo davanti Non ho lasciato uno, lo so E poi Ci sarà uno scritto con scritto pass Ecco Poi che ne so, c'è slip Beh, blocco schermo Semplice Sbloccate Siamo sempre qui Speaker Sub-key Non so cosa sia Se vai Se tocchi solo una volta indietro Diventa lo schermo Diciamo Fucsio Ok E poi Front camera Mega camera Questa è la telecamera frontale Per gli selfie E questo Megacamera Fosocamera esterna E Basta Se voi cliccate Tenete premuto Tasto home Non succederà niente Ok Quindi dovrete uscire Uscire E poi La chiudete Quando siete qui Vedete Questa roba qua LCD test Con questo simbolo Lo chiudete E ricordatevi il codice Che vi metterò in descrizione Ok Grazie per aver seguito Questo video Alla prossima Grazie per aver guardato Grazie per aver guardato